buongiorno a tutti amici di youtube tifosi rossoneri e rivali benvenuti sul mio canale ragazzi volevo augurare a tutti un buon fine un buon inizio anno che speriamo sia un anno migliore un anno migliore per tutti noi ieri non ho visto la partita milan psv ero al compleanno del mio cuge che saluto che ha compiuto 40 anni quindi ero in festa tra go card mangiate eccetera non ho seguito la partita quindi non posso fare un'analisi o parlare a vanvera ho visto che abbiamo perso 3 a 0 ho sentito alcuni colleghi youtuber sembra che non abbiamo giocato come dovevamo non siamo stati bravi e all'altezza per quello che ho sentito quando c'è una preparazione in corso a volte non si è al top questo non ci deve assolutamente al momento preoccupare quello che io dico sempre il vero esame la vera prova il 4 gennaio dove iniziano le partite che contano dove bisogna fare punti sicuramente non sono contento per aver perso tre tre amichevoli scusate in un modo anche a volte pesantuccio questo dispiace non è sicuramente un alibi ma le squadre inglesi hanno iniziato il campionato a natale quindi due settimane prima di noi sicuramente hanno fatto un altro tipo di preparazione visto che hanno avuto poco tempo ma sono proprio curioso di come saremo il 4 gennaio il 4 gennaio sarà veramente la prova del 9 come dico io quindi speriamo veramente di iniziare bene fare subito punti perché questo sarebbe molto importante per la classifica e non solo ragazzi vi auguro a tutti un buon 31 un buon inizio anno un buon 2023 un abbraccio un bacione da gerry mi raccomando iscrivetevi al canale clic e clic e clic e tantissimi tantissimi auguri ciao a tutti ragazzi